Maxi Panwell, uno strumento di cottura professionale finalmente per l'uso domestico. E attenzione, oggi c'è un'offerta assolutamente irripetibile. Vogliamo fare in modo che ci siano tante Maxi Panwell in tutta Italia e che tutti ne parlino bene coi propri amici. Per questo, e solo per un periodo limitato, se chiami adesso avrai Maxi Panwell a 0 euro, pagando solo le spese di spedizione, pazzesco eppure reale. Maxi Panwell è tua a 0 euro e pagherai solo e soltanto le spese di spedizione di 29 euro. Prendi il telefono, non perdere questa incredibile occasione e ordina subito Maxi Panwell. Chiamando il numero in sovraimpressione, riceverai Maxi Panwell a casa tua pagandola a 0 euro e spendendo solo le spese di spedizione di 29 euro. Maxi Panwell è un prodotto professionale ed esclusivo che puoi ottenere solo tramite questa trasmissione televisiva. Approfitta di questa incredibile offerta. Prendi il telefono e ordina subito la tua Maxi Panwell.